ed ecco qua la sbaglinata di sushi a casa qui siamo a casa ma va di solito le faccio nei ristoranti comunque che abbiamo il sushi fatto da lei che l'ho mangiato non dico quasi come quello di pesaro quasi a genova ma io era molto buono siamo rimasti proprio abbiamo fatto una buffata tutti a genova andiamo questo invece si chiama è una specie di budino con i funghi che si chiama in giapponese ciao 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 e ora mangiamo il ciao per fare sushi si usa gamberi gamberi il salmone anche il tonno anche si e basta ma ci sono tanti mori come vuole come vuole con qualsiasi pesce la soia il versamento della soia ma non è soglia è soglia la salsa di soglia allora qui cosa abbiamo il tonno con il tonno e gamberi seppia questo è il tonno tagliato con ho messo il porro porro si verdura questo è questo uovo di uomo di loco il salmone questo invece e gamberi rissati e avocado invece questo filadelfia eccetera euro abbiamo perché abbiamo mangiato in germania ed era buonissimo e allora si si col filadelfia vai con le bacchette no 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 sono infortunato guarda sono infortunato ma io ho messo anche bastoni no 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 sono infortunato perché infortunato ti hai sfortunato ah no pensavo mi davi una pomata per la mano vuoi mettere e si dove lo mettiamo già sopra o lì lo mettiamo lì ok me l'aveva dato lui me l'aveva portato lui all'inizio io lo usavo per fare gli scherzi ci assaggia un po' la gente ah si troppo forte questo magna romagna ecco appunto magna romagna devi dire e poi devi dire e magna romagna e magna romagna la facciamo prima fila del fia e vai prima di imboccare cosa dici magna romagna giudizio critico perfetto e infatti è vero e mandiamo se magna romagna anch'io e non è male non è male poi finisci subito vabbè per forza vabbè finisci subito non piangere ma guarda che l'hai fatto molto eh si si e poi in giappone io non preparo mai ma preparo mai ma a casa non c'era nessuno mi piace fa il sushi no e magna romagna un poco con queste arughe sta finendo sempre di meno sembra poco ma è buono eh meglio dai meglio di pesaro meglio ma no pesaro è migliore si no ma dico questo è meglio di pesaro un grazie prego però è vero hai mangiato poco cosa dici? poco dai questo questo non riusci a mangiare proprio i campini campini ma basta basta proprio un po' fa male comunque no io di solito quando cucina lei lo dico sempre che cucina bene perché chiaramente ma te che non sei come dire un giudizio di un esterno secondo te è come... ma poteva fare meglio non hai mangiato il piatto? eh è troppo duro questo ma la mastica mastica funziona mastica bene ma poi ho preso il wasabi come si dice buono? buono oishi? 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 adesso comunque c'è ancora da finire finisci il vino eh bevi bevi e guarda caporetto il giorno dopo ah hai lasciato il tuo riso sul piatto buuuu adesso non hai riso vita niente tu ti avevo il piatto pulito e te l'hai lasciato pieno è pulito lì guarda non hai pulito bene adesso arriva guarda che ci batto la balletta la batteca la batteca la batteca quella lì hai racconta qualcosa di macca tu? eh sì papà la mamma è fretta zitto mangio va raccontata a due lavoro ho abitato due giorni chiaramente abbiamo maniatus abbiamo bevutus abbiamo parichiatus non abbiamo pagato la squintas perché siamo a casa a casa non si paga il conto eh te lo dici te c'è fuori una che ci aspetta adesso allora cosa dici allora giudizio sulla cena? buonissimo anche un po' troppo importante benissimo e se volete mangiare niente non è un ristorante vi arrangiate ciao ciao ciao